La nostra Ilaria Tettamanti a margine del forum delle regioni ha intervistato il governatore del Piemonte, Roberto Cota. Presidente Cota, il Piemonte quale sarà il ruolo in Expo 2015? Innanzitutto noi siamo confinanti e aggiungo che la città, oltre a Milano, l'altra città molto vicina ad Expo è proprio Novara perché gli insediamenti saranno presso la zona, come voi sapete, della fiera di Ropero. Poi c'è anche una vocazione particolare della nostra regione che è in sintonia con il tema di Expo 2015. Quindi noi siamo interessati assolutamente a collaborare, lo stiamo già facendo, sia dal punto di vista dell'allestimento dei padiglioni di Expo sia dal punto di vista della gestione dei flussi turistici, ricordiamo che oggi Torino e Milano sono collegati con meno di un'ora di treno sia dal punto di vista degli eventi e mi auguro che ci possa essere, sono sicuro, anche un'occasione straordinaria di lavoro per le nostre imprese. Sicuramente ci sono tante eccellenze in tutto il paese, noi abbiamo sicuramente il riso che è un alimento fondamentale, poi abbiamo tutta la nostra industria anche di trasformazione alimentare, poi se vogliamo puntare sulla enogastronomia abbiamo tutto il discorso dei vini, insomma tante cose che vogliamo mettere in luce, anche il fatto che in Piemonte è diventata una regione con città che sono classificate ormai come città d'arte.